Perché ti sei candidato? Ho accettato di candidarmi a sostegno di Chiamparino per aiutarlo a riconquistare la regione Piemonte dopo i disastri fatti dal centro-destra e dal precedente Cota. Perché ti dobbiamo votare? Diciamo che fa parte della mia storia, sono un uomo di sinistra, ho sempre lottato per i lavoratori e per i giovani e chiedo ai piemontesi una preferenza e il voto a sinistra e libertà per difendere quelli che in questi anni sono stati rubati, i diritti, la dignità, la democrazia e la partecipazione per me, per i miei figli, per i giovani, per i lavoratori. Questo è un impegno che io assumo e che fa parte della mia storia. Ecco perché chiedo un voto a sinistra e libertà con una preferenza amoradica.